Ciao a tutti, benvenuti su TechGaming, in questo video voglio parlarvi di drop su Twitch. Ma che cosa sono i drop? Come si ottengono? Come si attivano? Come si offrono? Avete mai sentito parlare del termine droppare? Ho droppato quest'armatura, ho droppato quest'arma e così via dicendo. Il droppare è un termine utilizzato per significare che è stato ottenuto un premio, un qualcosa, da un qualcosa, nel senso che io apro il forziere, ho droppato un'arma, ho ucciso un nemico, ho droppato un equipaggiamento, ho droppato un oggetto collezionabile, cioè ho trovato, ho raccolto, ho ottenuto. Su Twitch esiste la possibilità di droppare. Naturalmente non potete droppare sempre e ovunque. Potete droppare solo nei canali Twitch che hanno la possibilità di offrire dei drop, come nel caso di TechGaming. Naturalmente ciò non significa che vedendo tutte le live a qualsiasi ora droppate a volontà. Non funziona così. Ci sono dei giochi che supportano il drop su Twitch. Se lo sviluppatore offre la possibilità di ottenere gratis un equipaggiamento, un oggetto, l'accesso a una beta e così via dicendo, Il canale Twitch che supporta i drop e che viene abilitato per ottenere quell'oggetto può offrire agli spettatori la possibilità di riceverlo, come nel caso diciamo di TechGaming e in questo momento di Darwin Project. Praticamente il mio canale è abilitato per i drop. Per abilitare un canale per i drop bisogna essere affiliato, barra partner. Praticamente avere tanti iscritti, tante visualizzazioni, tanti spettatori, eccetera eccetera. Una volta che vi recate sul vostro canale, che è questo, andate sull'icona del canale qui in alto a destra e andate su dashboard, scusate su video producer, cambiano sempre le cose qui su Twitch, scusate, video producer. E poi qui andate su drop. Ora qui attivate il drop. Avete, o meglio, ho in questo caso Darwin Project. Praticamente da venerdì 10 aprile al 21 aprile, alle ore 18, nostrane, io posso offrire la possibilità ai giocatori di Darwin Project di vincere, di ottenere, di ricevere gratuitamente questo oggetto. Come? Accedendo a Twitch e guardando la mia live, riscattando la ricompensa entro due minuti nel momento in cui io porto a termine la missione e andare nella pagina dell'inventario per assicurarsi che l'account del gioco sia collegato ovviamente per ottenere il drop nel gioco. Naturalmente ci sono casi e casi. Ci sono casi in cui lo streamer mette a disposizione un oggetto mentre gioca viene dato random. Quindi il primo che arriva lo prende. Ci sono casi in cui vengono richieste delle azioni specifiche, come questo. Praticamente il team di sviluppo di Darwin Project offre la possibilità allo streamer di regalare questo oggetto ai suoi spettatori una volta che è stato ottenuto in gioco. Quindi lo streamer deve collegare il proprio account Twitch al gioco, giocare e assicurarsi che la missione Last One Standing venga completata. Inoltre, naturalmente nella categoria alla gestione streaming deve esserci Darwin Project. Quindi se io in questo periodo gioco a Darwin Project col drop abilitato, ottengo quest'arma, i miei spettatori hanno la possibilità di dropparla e di ottenerla per il gioco. Questo discorso è valido per le armi, per le skin, per le beta, per qualsiasi cosa che lo sviluppatore mette a disposizione. Quindi, concludendo, il drop può essere abilitato solo dai canali affiliati o partner. Il drop può essere ottenuto da chiunque su Twitch. Il drop può richiedere dei requisiti, come in questo caso. Sostanzialmente, però, per ottenere un drop bisogna, ovviamente, associare il proprio Twitch al gioco e riscattare la ricompensa mentre si guarda la live. Quando si guarda la live ci sarà un simbolino che indicherà che la live ha i drop. Quindi, cliccando poi sull'apposito pulsante, si ottiene la possibilità di ricevere appunto il drop e, in questo caso, l'oggetto. Quindi, i drop sono gratis, sono per tutti i giocatori che seguono le live in cui i drop sono abilitati e attivi. Quindi, ricapitolando, per concludere, se io faccio, in questo caso, la live di Darwin Project dal venerdì 10 aprile al 21 aprile, con i drop abilitati e porto a termine i seguenti requisiti, i miei spettatori possono ottenere questo oggetto gratuitamente da riscattare all'interno del gioco.